Buonasera, benvenuti a questa nuova inaugurazione alla Galleria della Galleria degli Artisti. Questa sera abbiamo l'onore di inaugurare una mostra liquida, una grande novità. Abbiamo qui Giglio Langoglia e le sue straordinarie opere. Giglio, buonasera. Ciao. Perché questo nome? Liquida con la P maiuscola. Con la P maiuscola, si. Allora, liquida perché sono fotografie stampate su carta e cotone perché è la tecnica più pittorica e fotografica e liquida perché sono fiori immerse nell'acqua e colore per creare poi questa tessitura, queste scie che si vengono a creare. E liquida perché stampando su un formato grande volevo che l'occhio, la vista andando vicino potesse navigare in questi colori. Di conseguenza liquida era il nome. Allora, per il linguaggio dei fiori, qui alla Galleria degli Artisti abbiamo scelto delle opere che rappresentassero fiori. Si. Però tu fai anche molti altri soggetti, no? Con questa tecnica? Con questa tecnica? Con nell'acqua? No. Nell'acqua solo fiori? Si. Solo liquida, neanche solo fiori. Perché i primi fiori, quelli piccoli ad esempio su carta e cotone fatta a mano, sono invece, è solo una ricerca, sono molto più essenziali, sono solo una ricerca di linee. I sfondi erano molto più puliti ad esempio e sono antecedenti a liquida. Con liquida invece ho tolto il ruolo dal protagonista del fiore per darlo alla totalità delle immagini. Soprattutto allo scuro proprio. Mentre, no, quello forse che vorrei dire tu era con le verdure. Anche con le verdure. Quest'anno, quest'anno ho iniziato a fare appunto le verdure, ma non sono immerse nell'acqua. È un abecedario. Volevo che avessero un effetto molto vintage. Quindi mi sono creato delle maschere che potessero poi farla cercare. Come ti tengono queste idee rigidie? Si che ne so. Così vedi qualcosa. Non lo so. Non lo so, sinceramente non lo so. Allora io vorrei che tu spiegarti, perché oggi tu me l'hai spiegato e io sono rimasta incantata, tutto il processo che ti ha portato a fare questo lavoro qua. Questo lavoro qua. Allora, diciamo il titolo. Allora. Ma questo titolo... L'opera in sé si chiama Ye, che in giapponese vuol dire casa. Questo simbolo. Mi è stato regalato questo kimono che è stato creato cucendo a mano 33 pannelli. I pannelli riprendono le porte scorrevoli delle case giapponesi. e questi 33 pannelli appunto simboleggiano casa. Perché 33? Perché la persona che me l'ha regalato fondamentalmente si chiama 12, mentre io mi chiamo 21. L'iniziale? No, da quando siamo conosciuti ci chiamiamo così da sempre. Quindi 21 più 12 è 33 e 33 era casa. Io lo volevo usare come cornice per una serie che si chiama Sliding Dose, le quali iniziali sono le iniziali della persona che mi ha regalato il kimono SD. e questa foto di questa serie l'ho tagliata in 12 pannelli e ricucita. Per poter usare come cornice ho creato ombre. Nel frattempo stavo lavorando con l'amlicedario quindi con le lettere, con gli eletti e mi sono creato questo simbolo che è dato da una N e una Z. La Z tra l'altro è ora N, sono lo stesso simbolo perché se la ruotiamo la Z diventa N. girandola e facendo questo intaglio, incastrandole si crea questo disegno che per me, che per me è quella casa che disegniamo da piccolo senza staccare la penna dal foglio. Non ho voluto fare rispetto perché mi dava la pesantiva troppo. La N è la dodicesima, l'alfabeto, la Z è la ventunissima, l'alfabeto 12 più 21, l'alfabetta 3 e ritorniamo alla penna da casa, ovvero la IE. Bene. Mi metto qui dietro. Ricordiamo che la mostra di Egidio inizia oggi e termina il 12 maggio, quindi mi raccomando dovete assolutamente venire. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.